Un saluto dal Tg della mobilità dalle 8 del 30 settembre sino a cessare esigenze per consentire alla società Italgas di effettuare dei lavori in viale delle province all'altezza del civico 154. La strada verrà chiusa al transito in direzione e verso da piazzale delle province a via Tiburtina. Le linee 120F provenienti da viale Washington, 490, P10, P20 e le notturne NMB da piazzale delle province, 495 da Valle Aurelia, 542 da piazzale delle Camelie, 649 da piazza Zama e C3 dal cimitero Flaminio verranno deviate su percorsi alternativi. Saranno sospese due fermate in viale delle province, una in via Tiburtina e una in viale Ippocrate. E' tutto, appuntamento alla prossima edizione.